Il ram Aga D8 è stato riconosciuto da RPM nel 2012, a una profonda di 82 metri, in area nord-est, dall'isla di Levanso. Ha un articolo latino, inserito su una linea, che è posizionato sulla parte parte del ram, su tutta la lunga. E tradizionato come Lucio Quinto, son di Gaius, questor, approvano questo ram. L'inscrizione su ram VIII mostra che i questori romani erano coinvolti nella produzione di equipamenti navali. Le lettere di questa inscrizione mesurano circa un centimetro in veloce. Una volta che il ram si è installato sul navale, sono stati postati sotto la superficie dell'acqua. Inoltre la loro posizione e la size, erano sicuramente illegibili per nessuno, dal luogo all'acqua al bato stesso. Il risultato dell'inscrizione era soltanto certificare la qualità del pezzo e l'allio metallo usato per la castigazione, qualcosa simile a quello che succede oggi con le pennellate. Tra le pinze del ram, è possibile vedere alcuni faggianti. Questi sono le rimanze dell'esterno che fu rammato durante la battaglia. Il tecno latino è precedente da una decorazione. Ha un rilievo di rilievo di un cuore del guerriero, portando un helmetto di Montefortino. La decorazione mostra l'attenzione estremamente ai dettagli. La protezione del pezzo, l'occhio del rim e l'apex, che sono montati da tre pezzi, in una forma di fonte, sono visibili. Le storie scritte dicono che il Triari, il soldato di soldi più pesanti pesanti della legenda, è usato per decorare la parte dei helmetto con tre pezzi. È molto interessante di mostrare che su questa ram, ci sono signori di uso e alcune parti d'ora sembra dimenticato. Quindi è possibile ipotesizzare che il ram 8, era posizionato su un avviso per un lungo periodo di tempo. Tutta questa informazione rivela importanti aspetti che erano precedenti o personalmente conosciuti sulla battaglia di Agadì e la prima guerra Punica. I eventi che caratterizzavano la vita della Roma e del tutto Mediterraneo da lì a seguire.